Il ponte romanico del comune di Albino, denominato anche Ponte Vecchio, è situato in provincia di Bergamo e sorge sul fiume Serio. Come è possibile notare dalla carta dell'evoluzione dell'urbanizzato, il contesto urbano attorno al ponte si è evoluto soprattutto negli ultimi anni. Si tratta di una costruzione medievale risalente tra il XIII secolo e il XIV secolo. In passato era un'importante via di comunicazione verso Bergamo e il resto della valle. Negli anni furono eseguite diverse opere di manutenzione, soprattutto dovute ai periodi in cui il fiume era in piena e di conseguenza danneggiava maggiormente la struttura del ponte. Con l'obiettivo di ricostruire il modello tridimensionale del ponte, abbiamo inizialmente effettuato alcuni sopralluoghi e rilievi. La prima giornata abbiamo realizzato un rilievo GPS e poi, con l'ausilio di una stazione totale, un rilievo topografico. Durante la seconda giornata abbiamo effettuato il rilievo mediante laser scan, realizzando circa 29 scansioni, posizionate sulla strada, sul ponte e sul greto. Nell'ultima giornata di sopralluogo abbiamo eseguito il rilievo fotogrammetrico, utilizzando una macchina fotografica posizionata prima su un treppiede e successivamente su un'assa telescopica dotata di stabilizzatore. Una volta acquisiti dati grezzi, li abbiamo elaborati mediante diversi software. Dalle foto scattate abbiamo scelto quelle meglio esposte e parallele al ponte e siamo andati a raddrezzarle mediante Photoshop. Infine, le abbiamo posizionate per ottenere una prima rappresentazione del ponte. Una volta acquisite le scansioni mediante laser scanner, le abbiamo elaborate con il software CAM2SYN. Dopo vari tentativi di allineamento che ci hanno condotto ad ottenere un modello avendo una precisione di circa 4 mm, abbiamo estrapolato dapprima la nuvola di punti generale contenente del contesto e successivamente, dopo averla ripulita, abbiamo estratto quella relativa al ponte. Le foto acquisite durante il rilevo fotogrammetrico le abbiamo importate in Zephyr, con lo scopo di generare un modello abbastanza fedele alla realtà. Quanto ottenuto, però, non ha soddisfatto le nostre aspettative. Difatti, come si può notare dal filmato, molte parti sono di difficile lettura e sfocate. Per raggiungere un risultato migliore di quello precedente, abbiamo reimportato ed elaborato nuovamente le foto mediante il software Agisoft Metashape, ottenendo effettivamente un modello migliorato. Grazie al software CloudCompare abbiamo confrontato le nuvole di punti elaborate, tenendo come riferimento quella laser scanner. Il risultato ottenuto permette di individuare in rosso le parti della nuvola fotogrammetrica che si discostano maggiormente da quella laser scanner. L'analisi DEM, raffigurata, è stata effettuata con il fine di rappresentare i gradi di spostamento del ponte rispetto a un piano verticale. Abbiamo inizialmente costruito delle sezioni multiple a passo costante di 1 mm di spessore e 19 mm di gap, con il fine di valutare l'andamento delle campate del ponte. Successivamente abbiamo effettuato un'analisi più approfondita sulle pile, per evidenziare l'effetto dell'erosione nel corso del tempo. Il software Meridiana ci ha permesso di effettuare una verifica metrica sui modelli elaborati tramite il rilievo laser scanner e il rilievo topografico. Più precisamente abbiamo confrontato le distanze di alcuni vertici rilevati e le differenze ottenute sono dell'ordine del centimetro.